Se gli altri femmo eh, se no gli altri cominciano, se non succede niente, passiamo direttamente a casa. Femmo apposta questa questione, ma farsi mai così tutti insieme. Sì, ho provo di farsi mai tutti insieme, sono in maniera sincera, sì o no? Boh, ragazzi, a che sono io adesso, a se c'è una buzo paia merda, fai la merda! Sì, ho provo di farsi mai, sono in maniera sincera, da una buzze, 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 da una buzze! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.